Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura Oggi volevo parlare delle 10 regole che gli idol devono rispettare per poter lavorare nel mondo dell'intrattenimento Devo dire che alcune di queste regole secondo me vanno contro quasi i diritti umani Vorrei discuterne con voi per vedere comunque la vostra opinione Qualcuno ha insinuato che quando parlo di Corea parlo sempre di cose negative E che cosa contro la Corea e se è un mio tentativo per far uscire il Giappone migliore rispetto alla Corea Vorrei dire che non ho assolutamente nulla contro la Corea Anzi io credo che quello che se non riuscite a fare il K-pop e tutti voi lo sapete Le cose meravigliose che comunque sono riuscite a fare Che è stato quello di riuscire a imporre anche se in minima parte Perché comunque la maggior parte delle persone se voi gli dite Oh i coreani sono fighi ti dicono ma va a cagare fa schifo Però ci sono molte persone che adesso trovano comunque la bellezza asiatica abbia il suo perché Come io ho sempre sostenuto fin da piccolo E secondo me è una cosa molto positiva quello che è riuscito a fare il K-pop E comunque il bello del K-pop è sotto gli occhi di tutti Cioè penso che tutti voi sarete d'accordo che K-pop riesce a realizzare dei video che sono veramente bellissimi Dal punto di vista estetico sono favolosi Mettono insieme un gruppo comunque di vari componenti che tutti sono bravissimi a cantare e ballare E anche fisicamente molto attraenti È una cosa veramente interessante È riuscita a cambiare un pochino quell'immagine degli asiatici che sono tutti cessi Perché io mi ricordavo che quando ero alle superiori C'era una ragazza cinese che mi piaceva E un mio compagno mi diceva ma guarda che schifo Cioè sembra che gli hanno dato una padellata in faccia Perché secondo lui aveva la faccia piatta no? E in ogni caso ragazzi io me ne sono fregato e ho fatto bene così Siccome il bello del K-pop è sotto gli occhi di tutti C'è interessante anche parlare di quello che c'è dietro Anche perché meno persone ne parlano E comunque lo trovo molto interessante anche dal punto di vista sociologico E penso che sia molto importante parlarne Perché magari ci sono tante persone che vorrebbero entrare in questo mondo Ma non si rendono conto di quello in cui potrebbero andare incontro Perché diciamo che ok magari gli idol che diventano famosi Non tutti tra l'altro Però quelli che ci riescono magari riescono a avere poi una bella vita Ma per un idol che ce la faccia ne saranno mille altri Che invece non ce la faranno mai E devono spendere sette anni della loro vita A cercare di raggiungere un sogno che non si realizzerà mai Comunque di questo magari ne parlerò in un altro video Allora queste dieci regole Tra l'altro io non ho mai fatto il training Quindi le ho prese dal canale di Grace TV Che è questa ragazza che era allenata per molti anni come trainer E ha detto diciamo come è stata la sua esperienza E ha fatto questo elenco delle dieci regole Che devono seguire i gruppi K-pop Non giudicate questa è stata la sua esperienza Non è detto che per tutte le aziende valga così Comunque credo sia interessante discuterne La prima regola che questa in realtà vale anche per gruppi come le AKB48 giapponesi È che non possono avere il moroso E i ragazzi non possono avere la moroso ovviamente viceversa Questa è una regola veramente severa che i gruppi devono rispettare E se ti beccano comunque che hai il moroso Potresti avere delle conseguenze molto gravi Come poter essere licenziata O magari questa Grace appunto raccontava che una sua amica È stata tolta la sua parte di canzone Cioè nel singolo dove pure lei doveva cantare Il suo pezzo è stato rimosso O l'hanno fatto durare veramente pochissimo E sapete comunque se siete in un gruppo magari di dieci persone E avete magari quella piccola parte che potete cantare in quella canzone E ve la tagliano Cioè voi è come se non esistete in quel music video Diventate delle backup dancer diciamo Questo è anche importante Non so se conoscete appunto le AKB che vi dicevo prima C'è stata una ragazza che era stata beccata col ragazzo E faceva parte del gruppo principale diciamo delle AKB È stata penalizzata perché è tornata a essere nelle training E non era più nel line up ufficiale Tra l'altro lei per scusarsi si è tagliata i capelli a zero E ha filmato questo video in cui si scusava Così si è scusata Non lo so a me sembra assurdo Cioè nel senso La seconda regola era che non si può parlare con i membri di altri gruppi Magari all'interno della stessa azienda Che però sono del sesso opposto Quindi anche l'azienda faceva in modo che diciamo i gruppi maschili Magari dei training e i gruppi femminili Avessero delle schedule così diverse Che così non c'era mai occasione che questi gruppi si incontrassero La terza regola è che vi controlleranno il cellulare In qualsiasi momento praticamente il vostro manager può chiedervi di prendere il cellulare E leggere tutti i messaggi Questo lo fanno in modo che diciamo le ragazze o i ragazzi Non si scambiano messaggi fra loro E magari non nasca magari qualche relazione E tra l'altro se queste ragazze venivano beccate A avere delle discussioni con dei ragazzi o viceversa Magari l'azienda costringeva loro a lavorare 7 giorni su 7 E riempiva ancora di più le loro giornate con allenamenti e altre cose Mi sembra assurdo a dir poco Sempre Grace ha detto che comunque c'è questa regola dei 3 anni Cioè da quando debuti per 3 anni non puoi avere un ragazzo Poi dopo da lì in poi la cosa può cambiare Lei ha detto che comunque c'erano delle ragazze che appena hanno debuttato Mentre stavano per debuttare se il manager sospettava che avessero delle relazioni Veniva sequestrato il cellulare a loro per anche dei mesi Madonna come a scuola assurdo E se volevano comunicare con la loro famiglia dovevano parlarne col manager Cioè veramente Poi la quarta cosa è che non possono mangiare praticamente cibo schifezza Comunque sono tutte sotto una stretta dieta E ogni giorno o quasi venivano pesate per vedere che non avessero preso del peso O che tutto sia a posto Per evitare comunque che queste ragazze ingrassano Perché comunque le ragazze del K-pop sono estremamente magre E per mantenere quel fisico sicuramente c'è un sacco di lavoro dietro E un'attentissima dieta Tra l'altro c'era una ragazza che aveva preso del peso E per potersi mantenere diciamo magra Aveva iniziato a prendere dei lassativi Cioè vi rendete conto? È tristissima questa cosa secondo me La quinta regola è che il vostro manager deve sempre essere in grado di potervi contattare Anche durante la notte E se non rispondete magari il giorno dopo vi farà una ramanzina E vi chiederà perché non eravate raggiungibili eccetera eccetera Che poi dico se tu chiami magari a luna di notte può anche essere che sono a dormire Tra l'altro hanno detto che magari c'erano delle volte che magari di nascosto uscivano Tra l'altro uscivano dalla finestra perché spesso mettevano anche delle camere Di sorveglianza davanti alla loro porta per non farle uscire E magari il manager le diceva di fare FaceTime Per vedere se erano veramente a casa che stavano per andare a dormire O se magari erano in giro E questo ci rifà un pochino la sesta regola Che è quella del non uscire O se le ragazze volevano uscire Dovevano comunicarla al manager E dovevano sapere esattamente che tipo di uscita sarebbe stato E dove queste ragazze sarebbero uscite La settima regola è che queste ragazze non possono avere social media Cioè non possono avere diciamo il loro account privato Magari per scrivere con degli amici Ma possono soltanto utilizzare quello ufficiale E anche quando utilizzano quello ufficiale Hanno comunque una serie di regole che devono rispettare Cioè per esempio se loro vogliono postare qualcosa sui social media Prima devono mostrare sia la scritta che vogliono mettere nella foto O che la foto stessa al loro manager per avere il loro consenso a poterla postare So che questa magari può sembrare una cosa un po' strana Però tra queste regole forse è quella che più posso capire Perché un'agenzia che va a spendere un sacco di soldi su un gruppo Vuole essere sicuro che queste ragazze comunque sono molto giovani Magari non scrivono qualche stupidaggine per sbaglio E iniziano una controversia Ragazzi mi sta venendo un po' di mal di gola Scusate se in questo video sembra che ho la voce di Marge dei Simpson L'ottava regola è che non possono cambiarsi i capelli Anche questa è una regola che è strettamente legata al loro aspetto fisico Infatti è l'azienda che decide il loro aspetto fisico Come vi ho detto anche nel video che è uscito lunedì scorso E quindi diciamo che se vogliono tagliarsi i capelli Devono comunicarlo al management Perché sono loro che devono decidere Sono dei prodotti preconfezionati dalla loro azienda E loro diciamo che possono metterci poco del loro Questa diciamo è forse una delle cose che un filino meno mi piace Se volete nel K-pop Che mi sembrano dei prodotti troppo creati a tavolino E non c'è tanta espressività da parte di molti di questi gruppi Una volta che il gruppo magari riesce ad avere un certo successo Specie quando fanno i loro progetti da solisti Secondo me possono avere più idee E che possono realizzare nelle loro video Però prima diciamo un po' meno La nona regola è che non possono avere un lavoro part-time Diciamo che già hanno pochissimo tempo Però anche se volessero prendersi un lavoro part-time È difficile che riescano a portarlo a termine Perché l'agenzia molto spesso non vuole che le ragazze o i ragazzi Si trovino un lavoro part-time E questo è molto diciamo stressante per molti componenti Perché sapete quando voi fate i trainer sostanzialmente siete poveri Cioè vivete con i soldi che molto spesso vi manda i vostri genitori Perché comunque molto spesso quello che vi dà l'azienda non è abbastanza Se magari volete uscire e comprarvi un vestito Non potete farlo con i soldi Tra virgola paghetta chiamiamola Che vi dà la vostra azienda Si vi dà vitto alloggio Però non è abbastanza Cioè nel senso Se voi magari passate 5 anni a fare training Magari ci sarà una volta che volete comprarvi un videogioco O qualcosa del genere Non lo so Però non hanno molti di questi gruppi Non hanno la possibilità di poterlo fare Perché appunto non hanno dei soldi loro In tutti questi anni che fanno trainer Anche dopo che hanno debuttato Molte di queste non riescono a guadagnare molti soldi Per i primi anni A meno che non ingrani bene il loro gruppo E riescono ad avere un grande successo E questa diciamo che è un'altra cosa abbastanza triste La decima regola Questa vale in realtà in tutte le aziende Sia in Giappone che in Corea È che bisogna rispettare i tuoi superiori Quindi se i tuoi superiori ti dicono una cosa Tu devi rispettarla Quando arrivi al lavoro devi salutare in un certo modo Devi fare l'inchino Quando esci devi salutare tutti E è sempre così È veramente importante E questo lo fanno anche un po' Perché comunque sapete Questi gruppi avranno anche a che fare con televisioni Quindi diciamo che vogliono che i loro gruppi Si sappiano comportare in un certo modo Quindi diciamo che questa forma Diciamo di mostrare rispetto È importante anche per garantire Comunque che il gruppo manterrà Questa immagine diciamo rispettosa Nei confronti anche di terzi Vabbè ragazzi che dire Queste erano le dieci regole Ditemi quale vi ha stupito di più Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mi raccomando Lasciate un mi piace E andatevi a ascoltare la mia musica su Spotify Che vi dico sempre E ditemi se vi piacciono questi video un po' così E consigliatemi Che cosa volete che tratti la prossima settimana Che diciamo che sto cercando un po' di variare con gli argomenti E spero che vi possano interessare Settimana prossima mi piacerebbe parlare Di un'altra questione abbastanza delicata Che però ancora non mi sono documentato a sufficienza Che sono gli scambi diciamo un po' Sessuali che succedono all'interno del K-pop E di come alcuni artisti vengono venduti Eccetera eccetera Però di quello ne parleremo la prossima settimana Perché è un argomento abbastanza serio Che però è interessante Se ne parla poco diciamo Io tra poco avrò gli esami Spero che andranno tutti bene Se registrerò un nuovo music video Anzi ve ne faccio ascoltare proprio un pezzettino E noi ci vediamo al prossimo video